Abbiamo fatto una grande partita secondo mio avviso perché abbiamo avuto delle occasioni da gol importanti, sapevamo che comunque era una partita difficile e molto insidiosa, però abbiamo tenuto bene il campo e nel primo tempo se non sbaglio abbiamo avuto una palla gol limpida con De Marchi che ha calciato col destro e che se forse l'avesse incrociata col sinistro probabilmente avrebbe avuto più fortuna sulla conclusione. Poi abbiamo avuto anche una palla canutè che sottoporta, magari abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, anche bifulco, questo per quanto riguarda il primo tempo e poi non ricordo delle occasioni da gol fatte dal Messina. Nel secondo tempo, nei primi cinque minuti abbiamo avuto quella palla gol sempre con De Marchi, a tu per tu col portiere, Fabbro su cross di Orlando, poi un altro cross di Orlando, insomma la partita è stata ben giocata, rimane in rammarico perché nell'unica occasione da gol fatta da loro l'abbiamo persa. È stata una partita che non ha portato a risultato positivo, ci dispiace tanto, c'è amarezza dentro lo spogliatoio, però ricordiamo che comunque veniamo da una linea positiva dei risultati e quindi non ci deve far cadere a terra questo risultato, dobbiamo subito ripartire da domani, subito ripensare alla prossima partita perché non è un episodio che cancella quello che è stato fatto di bene nell'ultimo periodo.